Ciao a tutti e benvenuti all'oroscopo di oggi. Oggi vi porteremo le ultime notizie astrali e gli influssi planetari che influenzeranno la vostra vita. Sarà un viaggio emozionante attraverso le stelle, quindi preparatevi a scoprire cosa il destino è in serbo per voi oggi. Ciao Ariete. L'Ariete potrebbe sentirsi maggiormente sotto pressione dall'esterno. I giudizi delle persone intorno a te e il tuo partner potrebbero causare conflitti non necessari. Cerca di vivere per te stesso, senza preoccuparti troppo delle parole degli altri, questo contribuirà a migliorare l'armonia nelle tue relazioni. Potresti scoprire nuove opportunità per gli investimenti finanziari. Gli imprenditori potrebbero essere interessati a esplorare nuove opportunità di mercato e ampliare la gamma dei loro prodotti. Potresti dover dedicare più tempo alla famiglia, ma se hai altri impegni, potresti non essere in grado di farlo. Un grande successo nella tua carriera potrebbe essere in arrivo. C'è sempre la possibilità che tu completi con facilità e comfort un compito difficile. È probabile che il lavoro che stai svolgendo non solo migliorare la tua apparenza, ma anche la tua vitalità. Quando sei in una relazione impegnativa, è importante mantenere la calma e mantenere una comunicazione aperta con la persona che stai frequentando. Questo può farti sentire meglio e aumentare il numero delle tue relazioni con gli altri. Ciao Toro. Il Toro potrebbe non avere alcun problema grazie agli investimenti passati che mantengono il tuo saldo bancario in buone condizioni. Se lavori in un ambiente più gioioso e supportivo, potresti vedere un aumento della tua produttività. Se sei interessato a qualsiasi tipo di attività commerciale, oggi potrebbe essere un giorno vantaggioso. Potresti trovare che i tuoi attuali possedimenti potrebbero essere acquistati a un prezzo più basso se osservi attorno a te. Mantenere un regolare esercizio fisico può aiutarti a mantenere uno spirito lavorativo efficiente e ottimista, quindi dovresti lavorare su questo obiettivo. Tu e la tua famiglia potreste godere di una buona salute, quindi potete scruttare questa opportunità per rilassarvi appieno. I tuoi suggerimenti e consigli potrebbero essere un'ispirazione per lo sviluppo. e l'avanzamento professionale dei tuoi fratelli e sorelle. Ciao gemelli! Oggi potrebbe essere un giorno eccezionale per investire i tuoi soldi in azioni, obbligazioni o fondi comuni se stai pensando a un futuro investimento. Non dovresti sentirti in colpa nel regalare e mostrare affetto alle persone care e agli amici, poiché non avrai problemi finanziari. Prendendo decisioni giuste per la tua azienda al momento giusto, potresti ottenere stabilità finanziaria. Potresti presto diventare proprietario, anche se sei attualmente un inquilino. Hai la possibilità di avere successo nell'adempimento di un compito importante a casa, il che porterà probabilmente a un miglioramento dei rapporti con i membri della tua famiglia. Potresti essere ricompensato finanziariamente per le tue eccezionali prestazioni lavorative. Hai ottime relazioni con le persone nel tuo luogo di lavoro. Se ti concentri sul tuo compito con attenzione, è probabile che otterrai risultati positivi. I tuoi legami con le persone più anziane nella tua comunità continuano a crescere, ma potresti non avere la stessa stabilità nella tua relazione romantica. Il tuo partner potrebbe essere malinconico, quindi è meglio evitare di fare commenti critici o accusatori. Quando si tratta di relazioni romantiche, è meglio procedere con calma e non affrettarsi. Ciao Cancro Qualcuno potrebbe darti un prezioso consiglio finanziario, il che potrebbe portare a un notevole beneficio per te. Se sei disposto a fare uno sforzo, potresti avere successo nell'espandere la tua attività commerciale. Dopo un periodo di assenza, i tuoi cari potrebbero venire a trovarti e portarti alcune storie divertenti di cui hai bisogno. Potrebbe esserci un significativo sviluppo professionale e potresti sentire una crescente aspettativa. Potresti decidere di sperimentare qualcosa di nuovo sul lavoro, e i risultati del tuo esperimento potrebbero essere evidenti. A causa del tuo contributo al progetto, potresti ricevere riconoscimenti. Potresti cercare un mentore per migliorare la tua salute fisica. Questa persona potrebbe essere di grande aiuto nell'ambito della tua forma fisica e aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi di salute. Ciao Leone Oggi avrai uno spirito elevato. La tua determinazione e il tuo livello di fiducia svolgeranno un ruolo cruciale nel raggiungere i tuoi obiettivi di oggi. Ti sentirai festeggiato per aver completato un progetto. Dovresti seguire il flusso e otterrai risultati molto migliori nella tua carriera professionale. La tua carta della salute riflette un promettente futuro. Potresti avere un'opzione di investimento redditizia che potrebbe avvicinarsi a te nel prossimo futuro. Camminare a lungo e fare qualche leggero esercizio potrebbero aiutarti a mantenere il tuo attuale stato di forma fisica. Anche se potrebbe richiedere del tempo pianificare un progetto, la tua attenzione ai dettagli potrebbe assicurare che tutto si svolga senza intoppi e senza intoppi. Potrebbe esserci una festa in casa, e se è così, potrebbe essere un'occasione divertente. Parlando di romanticismo, la persona di cui sei innamorato potrebbe portarti emozioni positive e potrebbe anche accettare la tua proposta. C'è una relazione romantica che ti sta interessando, e potrebbe portarti molta gioia e soddisfazione. Ciao Vergine! Dal punto di vista professionale, un collega potrebbe offrirti un'opportunità significativa per aumentare il tuo reddito. Un amico potrebbe giocare un ruolo chiave nelle decisioni di carriera. Dal punto di vista finanziario, ti sentirai al sicuro, ma potresti dover affrontare alcune questioni legate alla salute. Fai attenzione alle tue parole oggi e cerca di evitare commenti offensivi. Vergine, la tua situazione finanziaria attuale potrebbe non influenzare negativamente il resto della tua vita. Potresti raggiungere i tuoi obiettivi e sentirti stabile finanziariamente. Se sei soddisfatto della situazione attuale, potresti esplorare nuove opportunità di investimento, ma potresti non pensarci troppo. Il tuo rapporto con la famiglia si approfondirà e dedicherai più tempo a loro. Potresti viziare la tua famiglia con un pranzo e dei regali se desideri impressionarli. Il progetto che stai attualmente portando avanti potrebbe portare un grande successo. Potresti decidere di concentrarti di più sulla tua salute fisica e mentale. Le tue opinioni sulla salute e la prevenzione delle malattie potrebbero cambiare. Ciao bilancia! Potresti scoprire un nuovo modo per guadagnare denaro o aumentare il tuo reddito. Se lo fai, troverai molto più facile coprire tutte le tue spese. Dovresti riflettere attentamente prima di essere coinvolto in una disputa legata ai beni, poiché potresti ottenere benefici finanziari da un conflitto. Cerca consigli da membri più esperti della tua famiglia, ma potrebbero non essere pronti a rispondere alle tue sfide attuali. Potresti decidere di partecipare a varie attività di intrattenimento, il che potrebbe giovare alla tua salute generale. Potresti scoprire che la meditazione ti aiuta a mantenere la calma e la tranquillità. Se mantieni un atteggiamento positivo e lavori duramente, potresti ottenere grandi risultati nella tua carriera. Tutto ciò di cui hai bisogno è la giusta combinazione di entrambi. Se ci sono ostacoli sul tuo luogo di lavoro, potresti superarli senza troppe difficoltà. Ciao Scorpione! Sembra che tu sia soddisfatto della tua situazione finanziaria attuale. Potresti essere disposto a sostenere un amico o un parente che ha bisogno di aiuto finanziario. Hai la libertà di farlo mantenendo un cuore aperto. Alcune delle tue relazioni potrebbero richiedere più di quanto tu possa effettivamente dare, il che potrebbe aumentare la pressione. Potresti essere stressato, ma riesci a rimanere calmo di fronte a questa situazione. Per quanto riguarda la tua carriera, potrebbe esserci un miglioramento significativo in arrivo. Se investi tempo ed energie e dimostri di avere abilità tecniche eccezionali, potresti avere l'opportunità di avanzare nel tuo lavoro aziendale. Potresti anche voler considerare l'uso di integratori specifici per migliorare il tuo sistema immunitario. Inizia a fare passeggiate al mattino e trasformale in un'abitudine quotidiana per migliorare la tua salute complessiva. Ciao Sagittario! Dal punto di vista professionale, tutti i tuoi sforzi sembrano svanire nel nulla a causa della concorrenza aziendale. Questo potrebbe farti sentire deluso e privo di speranza poiché tutto sembra diventare inutile. Raccogli tutto il tuo coraggio, la tua determinazione e la tua volontà e ricomincia da capo. Evita di spendere troppo poiché potresti rimanere a corto di denaro quando ne avrai più bisogno in futuro. Inoltre, limita il consumo di cibi non igienici. Sembra che tu sia molto preoccupato per le questioni familiari e senta la necessità di discutere con persone obiettive ciò che sta accadendo nella tua vita. Potresti ricevere il sostegno dei tuoi parenti in ogni iniziativa che intraprenderai, caro Sagittario. Potresti voler evitare di essere coinvolto in un dramma inutile creato dai tuoi amici. Potresti notare un notevole aumento del saldo nel tuo conto bancario grazie ai profitti notevoli derivanti dagli investimenti immobiliari. Potresti decidere di acquistare ulteriori azioni per migliorare la tua situazione finanziaria attuale. Molto probabilmente, le cose si svolgeranno senza intoppi sul fronte professionale oggi. Potresti desiderare di partecipare a corsi di formazione per migliorare le tue abilità softe e aumentare il valore che gli altri attribuiscono al tuo contributo all'ambiente aziendale. La tua salute potrebbe non presentare problemi. Potresti seguire una dieta salutare. Ciao Capricorno È giunto il momento di smettere di essere un burattino per i tuoi partner. Lascia da parte le lenti dell'amore e scopri la vera natura di coloro che trascuri nella tua famiglia. La tua salute sembra diventare sempre più forte. Tuttavia, dal punto di vista finanziario, potresti dover affrontare delle difficoltà. Il successo nella tua carriera potrebbe darti una ragione per organizzare una festa oggi. La tua intuizione potrebbe guidarti nella maggior parte delle decisioni che prendi oggi. Le tue capacità innate di gestire le persone e i progetti potrebbero renderti più produttivo ed efficiente nel tuo ruolo attuale. Le persone che interferiscono con il tuo lavoro dovrebbero essere prese in considerazione e dovresti prestare attenzione a loro. Per quanto riguarda le questioni finanziarie, sembra che tu possa trovarti in una situazione meno favorevole di quanto sperassi. Devi essere molto attento nella comunicazione se vuoi che le cose vadano bene in termini romanti. Quando si tratta delle tue connessioni, potresti essere paziente e un buon ascoltatore. Questo sarà vantaggioso. Potresti anche considerare l'idea di fare una pausa con la tua famiglia, che potrebbe essere un ottimo modo per rilassarti e rigenerarti. Per svuotare la mente dopo il lavoro attuale, potrebbe essere utile partecipare a qualche hobby rilassante. Ciao Acquario Cara Acquario, sembra che per evitare tensioni e incomprensioni inutili nella tua vita personale e professionale, dovresti adottare un atteggiamento più proattivo. Dovresti cercare con impegno di evitare di essere trascinato in qualsiasi lotta di egos che possa sorgere. Potresti godere di una situazione finanziaria confortevole, il che ti permetterà di concederti occasionalmente qualche lusso. Potresti decidere di investire denaro nella ristrutturazione della tua casa e rinnovare tutto. Il tuo successo potrebbe rendere i tuoi genitori soddisfatti delle tue capacità di crescere i loro figli. I bambini a casa potrebbero ottenere buoni risultati accademici, portando orgoglio alla famiglia se si distinguono nello studio. I tuoi sforzi costanti per migliorare la tua salute potrebbero alla fine ripagarti, poiché alcuni dei tuoi indicatori chiave potrebbero essere nella norma. Potresti impegnarti a mantenere le tue abitudini di allenamento. Ciao Pesci Pesci, sembra che tu stia gestendo bene la tua situazione finanziaria. Le sfide finanziarie del passato potrebbero non essere più un problema. Gli investimenti immobiliari potrebbero portare notevoli profitti a lungo termine per gli investitori. Potresti ricevere rimborsi per pagamenti in ritardo o somme che hai prestato a qualcun altro. Tu e la tua famiglia potreste trovare modi per rilassarvi e rigenerarvi. È possibile che un membro della famiglia di qualcuno possa avere momenti felici. Per quanto riguarda la tua carriera, hai il potenziale per diventare un valore aggiunto per l'azienda con cui stai lavorando. Tutto potrebbe iniziare in modo favorevole per te. Se soffri di una malattia causata dal tuo stile di vita, potresti vedere un notevole miglioramento dopo aver apportato alcune modifiche. Potresti considerare l'idea di adottare un nuovo passatempo per mantenere il tuo livello di fitness attuale. La tua relazione romantica potrebbe alla fine portarti gioia e soddisfazione.